La musica è sicuramente suono, ritmo, intensità e tante altre magiche e piacevoli sfaccettature, ma è anche sempre l'espressione di una storia da cui deriva il pathos che l'ha generata. Il concerto racconti di jazz, teatro in musica per la rassegna Viva Verdi Multiculti Jazz, ha voluto mettere insieme tutto questo con i musicisti della Jazz Quartet, Gianfranco Mezzella al sax, Cosimo Maragno alla chitarra, Gianfilippo Di Renzo al contrabbasso e Sandro Savino al piano e con la voce narrante di Elisabetta Rubini. Al centro le note e gli aneddoti di vere e proprie stelle del jazz come Monk, Powell, Young, Rollins, Reinhardt, Davis, Parker, Morton, Webster e tanti altri. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscapo giù al porto, mi misi in foda. Io e la tromba, gennaio 1927. Li abbiamo già ai suonatori, disse il tizio della compagnia. Uno che mi ha colpito parecchio è stato Miles Davis, anche perché nel racconto ho pensato di inserire anche un piccolissimo episodio della sua vita sentimentale, quindi sono entrata nei panni di un'attrice francese che è stata la sua donna, Juliette Greco, e quindi questa storia mi ha colpito abbastanza. La musica di partenza è lo swing, il jazz, quindi cercheremo di coniugare l'improvvisazione che è il fulcro del jazz con questo ambiente bellissimo, con questa organizzazione favolosa e cercheremo insomma di dare il meglio con teatro e musica.